A Pharma Evolution parliamo di telecardiologia, di telemedicina e di farmacia e dei servizi con Nicola Stabile, presidente di Promofarma e Fulvio Clisenti, presidente di HTN. Perché? Perché di recente sono stati pubblicati i dati del 2018 sui servizi di monitoraggio in telemedicina nati grazie alla collaborazione di Promofarma con HTN e all'allargamento delle reti delle farmacie che hanno attivato questo servizio. Presidente Stabile, intanto cosa significa che il numero di farmacie che eroga questi servizi è aumentato? I numeri sono stati importanti in questi mesi ma ovviamente quello che interessa è che cosa significa per le farmacie partecipare a questi progetti. Per le farmacie significa cambiare ruolo, modificare il proprio ruolo da dispensazione del farmaco da dispensatore di farmaco a dispensatore di servizi. Significa avere un ruolo differente anche nei confronti di stakeholders pubblici. Quando, e lo direi dopo Fulvio, più di 3.000 farmacie aderiscono a questa tipologia di servizi e riescono a svolgere un'attività che, lo dico con orgoglio, FEDERFARMA attraverso HTN presenterà a un congresso di cardiologia mondiale come primo esempio di struttura di rete territoriale che fornisce dati di prevenzione cardiaca per le patologie cardiache è chiaro che si deve rivedere in meglio il ruolo delle farmacie si sta parlando con l'Istituto Superiore di Sanità di certificazione, di formazione, di standardizzazione in modo tale da avere la qualifica di ruolo di interlocuzione reale per fare in modo che le farmacie dimostrino di essere attori di un processo che veda al centro il cittadino ma che veda al centro la farmacia nell'effettuare servizi che servono a efficientare il sistema sanitario. Lo dico con orgoglio perché quando il professor Grisenti con HTN e con FEDERFARMA presenta due abstract ad un convegno mondiale dove vengono accettati studi che vedono protagonista la farmacia italiana per me diventa motivo di orgoglio sia sindacale che professionale e questo io devo rendere grazie a HTN per aver portato questo esempio a livello mondiale. Dottor Grisenti, si sta per andare a un importantissimo congresso americano a presentare dei dati, intanto ce li può raccontare questi dati, lei è anche cardiologo quindi non stiamo parlando meramente di numeri ma stiamo parlando di qualcosa di utile per il paziente cittadino. Stiamo parlando di vite umane e la cosa che ci inorgoglisce e sto parlando di FEDERFARMA che ha sposato questo progetto di rete per tutta Italia e di HTN che in susseguenza ha supportato questo progetto stiamo parlando di un progetto che prevede di fare non solo prevenzione primaria ma anche prevenzione secondaria sul territorio e che sta a significare che la prossimità della farmacia qualsivoglia a essa sia rappresentata sia in città ma soprattutto rurale diciamo magari anche soprattutto rurale questo che noi leggiamo come un presidio sanitario sul territorio sta svolgendo un ruolo eccezionale a nostro avviso e lo dico dal punto di vista scientifico e con grande orgoglio che siamo riusciti a farci accettare due abstract da questo congresso che è il congresso più importante mondiale di cardiologia che si tiene in America, si terrà a novembre a Chicago il primo abstract è relativo a quei numeri che noi stiamo raccogliendo e sono quasi 4.000 le farmacie e abbiamo mandato agli americani un pool di 200 e tante mila prestazioni e su queste 200.000 prestazioni si è evidenziato che riusciamo veramente a cogliere sul territorio persone apparentemente sane che poi in teoria sane non sono e nell'ambito di queste apparentemente sane abbiamo trovato ed è il secondo abstract un numero notevole di fibrillazioni atreali la fibrillazione atreale ahimè è una patologia molto insidiosa perché genera ictus quindi paralisi e quindi i cittadini sostanzialmente poi diventano degli invalidi e quindi è un costo per il servizio sanitario se io riesco io Federpharma voglio dire la rete di farmacie riesce a prevenire anche solo una fibrillazione atreale sono vite salvate e sono quattrini sono veramente risorse economiche che il servizio sanitario nazionale può comunque utilizzare per altri servizi quindi appuntamento all'American Heart Association ma anche progetto di collaborazione lo accennava lei Presidente prima con l'Istituto Superiore di Sanità per evidentemente avviare ricerche metodologiche che abbiano anche un profilo scientifico garantito e certificato Assolutamente, lo dicevamo prima affinché questa nostra attività l'attività delle nostre farmacie abbia un valore che possa essere poi spostato verso un valore economico e quindi dare un ruolo non solo sociale ma anche di natura finanziaria a questo tipo di attività è necessario che ci siano tre baluardi che sono la formazione, la standardizzazione e l'informazione che permettano di interpolare questi dati come dati coerenti e come dati scientifici solo in questo modo abbiamo la possibilità di renderci partecipi attori di un processo di sviluppo e quindi solo con la certificazione ovviamente con la formazione e con la standardizzazione dei processi possiamo ambire ad un ruolo di protagonisti nell'ambito del sistema sanitario ma come attori di un processo di prevenzione primaria che deve per forza di cosa vedere le farmacie in prima linea io faccio sempre in tutti gli interventi un esempio banale perché le farmacie? perché in farmacia arriva il paziente meno malato il paziente sano e il paziente sui quali bisogna obiettivamente fare prevenzione primaria la rete sanitaria in generale accoglie un paziente già patologico il nostro ruolo è un ruolo secondo me più delicato molto più propenso ad un'attività di prevenzione primaria è su quello che dobbiamo lavorare e speriamo, sono convinto che ci riusciremo per chiudere la scienza, la medicina, la clinica, la telemedicina è un modo per riqualificare la professione del farmacista direi assolutamente di sì noi in questo momento siamo impegnati con Promofarma e Federfarma a un giro di 100 province in cui andremo a rappresentare serata per serata come dire faremo dei corsi di preparazione per l'utilizzo di queste nuove tecnologie e quindi contiamo e siamo entusiasti di questa attività di formazione sul territorio grazie